Salvini aveva promesso in campagna elettorale di fare la flat tax al 15% per tutti. Adesso, tanto per dimostrare che non parlava a Vanvera, l'ha limitata alle partite IVA, i lavoratori autonomi e i professionisti. Ma c'è qualcuno che rischia di pagare più tasse? I lavoratori dipendenti e i pensionati, che dichiarano l'82% dei redditi totali degli italiani. Vediamo perché. Prima il regime forfettario del 15% era per redditi molto più bassi. Adesso è per le partite IVA, che hanno fino a 65.000 euro all'anno di ricavi. Chi sceglie la flat tax paga solo il 15% e non paga l'aliquota IRPEF, che in questa fascia di reddito arriva fino al 41%, ma non paga neppure le altre imposte sui redditi. Per esempio, non paga le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, che possono arrivare al 3% del reddito e a Roma arrivano al 4,23%. Quindi, più saranno i contribuenti che scelgono la flat tax, meno soldi entreranno nelle casse di regioni e comuni. E quando le regioni e i comuni incasseranno meno soldi, cosa faranno? Potrebbero cercare di recuperare aumentando le addizionali IRPEF. In questo caso colpirebbero soprattutto i lavoratori dipendenti e i pensionati, che pagano tutte le tasse sui redditi alla fonte. Regioni e comuni possono farlo? La legge di bilancio di Salvini e di Maio ha cancellato il blocco delle addizionali regionali e comunali, che era stato introdotto da Renzi a partire dal 2016 e prorogato da Gentiloni. Dunque, adesso, comuni e regioni sono liberi di aumentare le tasse. Inoltre, i comuni potrebbero aumentare anche le tasse sulla casa, l'IMU e la Tasi, se non sono già all'aliquota massima. Il blocco è stato cancellato anche per queste tasse. Le tasse locali sono aumentate negli ultimi anni per compensare i tagli ai fondi trasferiti dallo Stato a regioni e comuni. Tra il 2006 e il 2016 l'IRPEF è aumentata del 14,1%, mentre il peso delle addizionali è aumentato dell'82,4%, fino a 16,7 miliardi. Di quanto potrebbero aumentare le tasse? La CGA di Mestre e la Confederazione delle Libere Professioni stimano che ci potrebbero essere aumenti delle addizionali locali per almeno un miliardo. Nelle grandi città le tasse locali sono già ai massimi delle aliquote previste dalla legge. Quindi la stangata potrebbe colpire soprattutto comuni medi e piccoli nel nord. Ci sono 4151 comuni che hanno l'aliquota a zero. Per tutti loro potrebbero partire i ritocchi. L'operazione Flat Tax rischia di trasformarsi in un paradosso. Per abbassare le tasse all'area del lavoro autonomo in cui c'è maggiore evasione, si farebbero pagare più tasse a lavoratori dipendenti e pensionati che non evadono neanche un euro. E tutto questo, secondo voi, alla fine aumenterà il deficit dello Stato o lo ridurrà? Attenti al lupo!